buongiorno a tutti sono don cherubino inter siccome io non sono bravo come il caro don gg inter a scrivere le poesiole vi dovrete accontentare proprio giusto perché è il compleanno dell'inter di queste mie semplici parole perché comunque davanti a un compleanno non ho potuto esimermi da fare gli auguri alla nostra amata squadra purtroppo io non sono come dicevo non sono bravo come don gg inter a scrivere le letterine e tutto quanto però di fronte a un compleanno mi sembrava giusto augurare tanti auguri alla nostra amata squadra sperando che domenica col napoli riesca a vincere perché se no altrimenti sono dolori ci sono 80.000 persone allo stadio che vanno apposta per festeggiarla sarebbe triste perdere col napoli anche perché la roma ahimè oggi ha vinto e se noi non vinciamo loro scappano la champions league non ci andiamo e non è mica bello comunque cari tifosi e care tifose nerazzurre tanti auguri all'inter dal mio piccolo paesino emiliano e niente speriamo in bene perché se no sono dolori ma proprio dolori forti forti non so cos'altro dirvi vi ringrazio vi saluto un salutone da don che rubino e speriamo in bene ciao a tutti